ciao sono martina di danine siris e la mia prima domanda per voi è per federico vale sia per te come attore ma anche per il tuo personaggio invece francesco te lo chiedo in quanto regista di questa storia dato che nel titolo leggiamo questa parola salvezza vorrei sapere cosa significa appunto per voi come persone federico anche per il tuo personaggio insomma allora partendo dal mio personaggio la salvezza rappresenta un secondo me un riconoscimento del del fatto che la visione di daniele non sia una visione sbagliata della vita che è un po quello che gli è stato fatto credere in tutti i suoi anni e sempre hanno sempre tentato per l'appunto di correggerlo ma il porsi determinate domande rappresenta invece un aspetto essenziale della nostra umanità un aspetto totalmente lecito della nostra umanità la risposta a determinate domande è quello che poi determina il il fatto appunto di essere classificato come paziente psichiatrico o meno e il la salvezza per daniele rappresenta appunto il riconoscimento di questo di questo aspetto fondamentale e il riconoscimento del fatto che anche altre persone come lui si fanno queste domande e che queste persone rappresentano poi per lui una una seconda famiglia una fonte di salvezza perché in loro si riconosce e viene in qualche modo legittimato diciamo per me federico la salvezza rappresenta diverse cose la stabilità un po del dei miei effetti il sapere il sapere appunto di poter tornare sempre a un porto sicuro e uno spazio appunto sicuro dove poter condividere me persona vera reale senza senza meccanismi di difesa senza schemi che mettiamo in atto un po tutti noi come via di fuga e un po anche la recitazione invece quello rappresenta un veicolo un po per perdere il perdere un po quella quella stabilità che invece ho tutti i giorni e quindi un modo di lasciarsi andare e di esprimere quello che ho dentro salvezza e sollevare lo sguardo da se stessi smettere di guardarsi insomma l'ombelico e guardare gli altri e quindi trovare rispecchiamento ma questo per me come come per la serie è la stessa identica cosa ed è anche lo stesso concetto che ho espresso anche in un film precedente che cosa sarà con kim rossi stewart dove il personaggio guarisce attraverso la condivisione come diceva federico prima con le persone che gli vogliono bene quindi questo credo che daniele alla fine si salvi perché smette di arrovellarsi un po su se stesso e guarda gli altri e visto che ieri era la giornata mondiale per la salute mentale insomma vorrei sapere se voi pensate che questa serie possa diventare uno strumento per cominciare a sdoganare sempre di più la tematica e renderla anche sempre più importante beh certo insomma è una speranza ma non diciamo è un tipo di ragionamento che uno non fa quando intraprende una cosa del genere uno cerca di raccontare una storia appassionante vera sincera poi se questo intercetta una richiesta un'attenzione da parte del pubblico più vasto possibile bene l'importante essere stati onesti insomma ci ci sono d'accordo e ovviamente sarebbe utopistico poter rappresentare un qualche modello di conforto per le persone che si rivedono in quei determinati personaggi e poi ovviamente noi quello che abbiamo cercato di fare non è il lasciare un messaggio ma raccontare una storia e poi insomma le storie poi sono anche ricche di messaggi più vari e però insomma appunto la nostra premura era quella di raccontare una storia grazie